Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Fairy ASMR grazie come al solito per aver scelto questo video rilassante oggi un po' di chiacchiere, quindi questo sarà un video in whispering con questo tono di voce sussurrato cioè in cui vi racconterò di un progetto che si è finalmente realizzato e che nei prossimi giorni vedrete in maniera più concreta e starò davvero che l'argomento possa interessarvi ma comunque se non è così sono certa che anche solo ascoltare la mia voce potrà in qualche modo condurvi in uno stato di serenità quindi vi invito, ti invito ad indossare le cuffiette oppure gli auricolari e a distenderti in un posto comodo lascia un mi piace a questo video se l'idea ti piace e non dimenticare di iscriverti al canale cliccando la campanellina per non perdere i prossimi video ed ora iniziamo voglio parlare durante questo video chiacchiericcio di un progetto che è finalmente venuto alla luce ci sto dietro da un bel po' di tempo, sono parecchi mesi che ci sto lavorando e finalmente inizia a nascere qualcosa di concreto parto dalla fine spiegandovi poi il senso di tutto questo e la fine è che ho finalmente preso l'attestato come mindfulness educator cioè sono diventata una facilitatrice in mindfulness che cosa significa? adesso cerco di spiegarvi nel dettaglio dovete sapere infatti che alcuni mesi fa in un periodo di enormi cambiamenti e di ricerca di nuovi punti stabili ho deciso di intraprendere la strada del coaching e ho deciso di farlo in un modo tutto nuovo che credo non sia ancora mai stato sperimentato almeno qui in Italia volevo cioè coniugare l'ASMR e il mio mondo fatto di rilassamento, creazione di contenuti soporiferi diciamo così con una professione che in qualche modo mi permettesse di aiutare concretamente le altre persone ne ho parlato immediatamente con la mia psicologa perché in quel periodo ero seguita da una psicologa ero in terapia non perché ci fosse qualcosa di particolarmente strano ma proprio perché stavo appunto affrontando un periodo di enormi cambiamenti e rivoluzioni della mia vita e sentivo di aver bisogno di un supporto per affrontare tutto nella maniera più serena possibile e la mia psicologa in quel momento mi ha detto guarda questa è un'idea bellissima ma devi prima ricentrarti perché altrimenti rischi di non riuscire a dare un aiuto agli altri ed è stato un consiglio davvero sano davvero importante non credo di aver definitivamente trovato il mio centro ma credo anche di aver abbandonato l'idea di dover trovare necessariamente un punto stabile quello che in realtà penso sia più giusto fare è accettare il fatto di essere in continuo cambiamento e il fatto che le circostanze della nostra vita siano sempre mutevoli però allo stesso tempo affrontare tutto con un certo equilibrio che è quello che mi sento di aver trovato quindi questo è sicuramente il momento giusto per trasmettere qualcosa di buono anche agli altri quello che ho fatto per iniziare questo percorso è stato innanzitutto formarmi e ho deciso appunto di formarmi attraverso un corso incentrato sulla mindfulness quindi ho seguito e completato un corso per diventare facilitatrice in mindfulness ovvero mindfulness educator sono super 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 contenta di aver realizzato questo obiettivo perché il corso è stato davvero illuminante sotto tantissimi aspetti e mi ha aiutata soprattutto con la pratica perché la mindfulness è innanzitutto una questione di pratica a trovare un equilibrio anche nei momenti di tempesta concentrandomi sulle cose del presente può sembrare molto semplice ma vi assicuro non lo è per niente e ci sono tante tecniche che è necessario imparare e soprattutto è necessario mettere in pratica per poter raggiungere questo tipo di consapevolezza perché poi di consapevolezza si tratta che ci consente di rimanere ancorati alle cose del presente senza far viaggiare troppo la mente verso il futuro verso il passato il presente è il momento che conta davvero e soprattutto quando ci sembra di aver perso un po' la strada il modo migliore per ritrovarla ve lo sicuro è proprio quello di concentrarsi sul qui ed ora mentre intraprendevo questa strada ho saputo che anche un'altra collega e amica Priscilla del canale Priscilla SMR che saluto e a cui mando un grosso bacio Giopri aveva intrapreso praticamente il mio stesso percorso e quindi ci siamo contattate e abbiamo deciso di iniziare qualcosa insieme su questo non posso ancora svelarvi troppo anche se chi possiede l'agenda ASMR chi l'ha acquistata e a proposito se non l'avete ancora fatto potete acquistarla anche su Amazon eccola qui vi ricordo che questa agenda contiene tanti tanti consigli per vivere in maniera più consapevole la propria vita quotidiana attraverso frasi motivazionali consigli pratici sull'organizzazione delle giornate sulle relazioni sulla comunicazione e tanto tanto altro mi raccomando vi lascio il link giù in descrizione e dicevo chi possiate l'agenda già sa perché all'interno dell'agenda c'è uno spoiler enorme per quanto riguarda questo progetto ma per chi ancora non ce l'avesse sappiate che tra qualche settimana verrà alla luce la seconda parte di questo progetto che coinvolge appunto anche la mia collega e amica Priscilla la quale ha affrontato lo stesso tipo di percorso che ho affrontato io quindi adesso si può dire che io sia una facilitatrice in mindfulness ma preferisco come termine quello di coach sono uno coach ASMR o uno ASMR coach e non vedo l'ora di poter mettere in pratica questa professione anche con voi non vedo l'ora di farvi scoprire e di scoprire anch'io insieme a voi tutti i benefici che questa professione riuscirà ad apportare nelle nostre vite sono super 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 contenta di potervi intanto parlare di questo mio progetto che come ogni progetto che vede la luce mi riempie di soddisfazione e di gioia e tenetevi pronti perché appunto nelle prossime settimane ci saranno delle novità e delle sorprese ecco questo era sostanzialmente ciò di cui volevo parlarvi se avete delle domande fatevele qui sotto sarò felicissima di rispondervi ma penso che dedicherò anche un post su instagram per parlare proprio di questo ovviamente il discorso non finisce qui perché ci sono tante cose di cui voglio parlarvi in maniera approfondita spero che vi piaccia ascoltarle però per adesso vi ho dato uno spunto per iniziare a capire di cosa mi sto occupando e a cosa sto lavorando in questi mesi in queste settimane anche per voi detto questo io voglio assolutamente salutarvi con il mio scettro luminoso perché è molto in tinta con lo sfunto di oggi e augurarvi ovviamente la buona notte sperando che sia una notte dolcissima piena di sogni fatosi spero di aiutarvi con un po' di magia che non deve mancare mai su questo canale e spero che non manchi mai anche nella vostra vita e noi come al solito ci vediamo se vi va nel prossimo video grazie per essere arrivati fin qui fatemelo sapere se siete arrivati fino alla fine scrivendomelo in un commento aspetto di leggere le vostre domande i vostri pensieri felici e ci vediamo alla prossima bacini fatosi ciao grazie a tutti Grazie a tutti